prestigiosi, dobbiamo tenere alta la nostra reputazione. 5, 4, 3, 2, 1, via! E sinistra 5 su dosso, destra 6 in abballamento. Sinistra 5 in 60 dopo l'incrocio. Destra 6, sinistra 6, 60. Attenzione, sinistra 4 sul crinale. Destra 3 in abballamento, diventa 2, crinale. Sinistra 4 sul crinale, 80. Sinistra 6 su dosso. Destra 5 lunga, 80, su dosso. Sinistra 6, 100. Dai al centro, 1, salto alto, 60. Crinale, 60. Sinistra 3 in abballamento, e nella sinistra sul crinale, salto. Tronchi interni e destra 4 in abballamento. Forse dovremo riparare i fari lungo il percorso. In sinistra 4, destra 5, su dosso. Sinistra 4 lunga, in abballamenti. E sinistra 3, su dosso. Destra 4, su dosso. Sinistra 5. Destra 5, tieni la sinistra sul crinale. Sinistra 6 in abballamento. E in crinale, possibile salto. 500, attenzione, rallenta, crinale con salto. Destra 4 lunga, su dosi. Crinale, sinistra 4, 60. Sinistra 4, su dosso. Destra 3, su dosso. E destra 4 lunga, in abballamenti. Sinistra 5, su dosso. Destra 6. E sinistra 5, su dosso. Destra 6, in abballamento. Sinistra 6, in abballamento. Destra 5, su dosso. E sinistra 6. Destra 6. Angolo retto, sinistra lunga. E sinistra 4. In destra 5. Sinistra 4, destra 2, lunga, su dosso. E crinale. Sinistra 3, in abballamento e crinale. Destra 3, in abballamento. Destra 5, e... Sinistra 3, in abballamento. 60. Destra 5, in dosso. 60. Destra 5, e... Sinistra 3, in abballamento. 60. Destra 5, in abballamento. 60. Destra 6, bronchi interni. 80, su dosi. Sinistra 5, lunga. Vieni la sinistra sul crinale. Destra 6, su dosi. 60. Attenzione, sinistra 4, sul crinale. Destra 3, in abballamento. Diventa 2. Crinale. Croce esterne. Sinistra 4, sul crinale. 80. Sinistra 4, destra 2. E lunga, su dosi e crinale. Sinistra 3, in abballamento e crinale. Destra 3, in abballamento. Destra 6. Altra 4. Ok, portala dal commissario. Ottimo tempo. Era imbattibile. Altra 5, in abballamento. Altra 5, in abballamento. Altra 5, in abballamento. Altra 5, in abballamento. Altra 5, in abballamento.